Fammi vedere di cosa sei capace, Betty, che ho ancora da scoprire. Tra l'altro oggi è la prima gara che guardo con gli occhi aperti di giorno. Quindi direi bene. Scaldo le gomme. 2 minuti, 10, stacca il bang, 5, 4, 3, 2, 1, vai. 300, in fondo attenzione, in posta parabolica frena, inversione sinistra. In posta parabolica frena, inversione sinistra. E tornante destra, 5, in, attenzione, inversione destra, sinistra, vai. 80, soboga, sacrifica la prima, 150, attenzione, ritarda, tornante sinistro, stringi stretto. 50, tosse in parabolica, 100, jersey stringe stretto, 150, chicane veloce, tripla in tratta sinistra. Lunga la seconda. 200 sinistra, 200 sinistra, e attenzione, chicane singola. 200, 200, attenzione, 4A, chiude. In super 3 di occhio esterno, chiude, torna in tedestro. E, inversione sinistra, scivola, vai. 400, attenzione, stringi, frena. Tettine triplo, lento l'ingresso, veloce dopo. Tettine triplo, lento l'ingresso, veloce dopo. 400. 300. Sistra in parabolica, chicane media veloce, entrata sinistra, occhio la seconda, smusa. 300. Attenzione, iconi rossi, chicane singola, stretta. 400, spiana. Al cambio asfalto, attenzione, 2A, stretta, gira sinistra, 2A, stretta. E, taglia super 5D, e taglia 5A, e, 4 di chieni, per inversione sinistra, vai. Per inversione sinistra, vai. 80. Ascari inversa, 5D, in, sacrifica, super 5A, in 4D. 400. 400. Attenzione, tettine doppio, medio veloce. Tettine doppio. 400. Second tilesmo inversa, 80. Chicane singola, lenta. Chicane singola, lenta. In, prima di lesmo, invertita piena. 300. Attenzione all'arancione, inversione sinistra. E, tornante destro, apre 5, 20, chiude, tornante destro. In, tornante sinistro, apre 3, gira. E, lima a 4D, vai. 400. Tettine veloce. 500, viassano inversa. Stringi il cordolo, frena. In attenzione, prima variante inversa, vai. 300. Attenzione, chicane singola, stretta, vai. Chicane singola, stretta, vai. 100. 5A, stretta, in Super 4D, smusa. 3A, chiude, torna. Super 3D, vai. Per, 5A, chiude, 4. E, 4D. Stretta, frena, in inversione destra. Sinistra, attaccate. 500. Attenzione, 6A, frena stretta. In attenzione, catrame. 4D, 3A, doppia. 6A, frena, stretta, in attenzione, catrame. 4D, 3A, doppia. E, 5D, in attenzione, inversione sinistra, occhio esterno. 50. Ottimo. Stop. Bravi. Com'è andata? Bene. Arrivo il CIO. Ottimo. Bene, bene. Ho visto tutto. Scusa, già. Porta in versione. Wow. Comincia quasi a piacermi questa inversione.